È un periodo difficile per noi perché non arrivano risultati e è un periodo che tra infortuni, sfighe, è un periodo che non gira. Quindi non siamo mai riusciti veramente ad avere un periodo costante dove ci allenassimo tutti insieme in questo spot e comunque allenarsi tutti insieme e capirsi in campo fa la differenza. Sicuramente ci manca quella serenità mentale, quella freddezza sottoporta perché le occasioni poi le creiamo ma ce ne mangiamo tanti. Poi ripeto, nessuno è al 100% delle condizioni perché quasi tutti si sono infortunati quest'anno, chi dentro il campo, chi fuori. E quindi dobbiamo, ripeto, dobbiamo lavorare in settimana per riuscire a dare il massimo in qualsiasi punto di vista al sabato. Possiamo ancora arrivare a playoff che è il nostro obiettivo. Togliendo il Tenax e il Kobà siamo tutti lì alla fine. Quindi sicuramente non sarà una partita facile ma noi daremo sempre tutto come facciamo ogni sabato.